Eccoci qua, cioè io, pronta, eccomi pronta a lanciare i due giveaway del mese di agosto YouTube e Facebook. Mi scuso se questo mese il giveaway inizia tardi rispetto al solito ma prima non ce l'ho fatta. Comunque, vi dico subito che il giveaway inizia dal momento in cui sarà online su YouTube questo video e da quando lo pubblicherò poi anche su Facebook. Dunque, finisce il 31 agosto a mezzogiorno, come sempre. Questo mese ho pensato di praticamente stabile le stesse regole sia per YouTube che per Facebook. Allora, se partecipate al giveaway di YouTube dovete naturalmente essere iscritti al canale. Se partecipate al giveaway di Facebook dovete naturalmente cliccare mi piace alla pagina e trovate il link della pagina sotto. Se non si dovesse aprire, perché a volte capita, basta che andate nella pagina iniziale del mio canale e lì trovate il link diretto. Dopodiché, una volta fatto questo, le regole per partecipare sono le stesse sia per YouTube che per Facebook in quanto questo mese potete lasciare al massimo due commenti. In uno mi dovete dire quale dei due premi che vi farò vedere vi piace di più. Quindi, premio 1 o premio 2. E in un secondo commento, oppure nello stesso commento, mi dovete dire se avete un tatuaggio, se sì, cosa e dove. Se non ce lo avete, se vi piacerebbe farlo e se sì, dove e cosa. Voglio fare questa specie di sondaggio perché siccome sto pensando che per il mio compleanno mi piacerebbe regalarmi un tatuaggio, però non lo so, sono ancora un po' indecisa, mi piacerebbe vedere un attimo voi cosa ne pensate, se ce l'avete, se non ce l'avete, insomma, avere qualche idea e qualche spunto di riflessione. E quindi passo subito a farvi vedere i premi, poi vi riepilogo tutte le regole sotto nell'info box e vi metto poi anche le foto dei premi in modo che comunque veliate meglio i colori perché siccome, come vedete, sto di nuovo oggi nel bagno, i colori si vedono e non si vedono. Quindi, tra i premi di Facebook e quelli di YouTube vi farò le foto. Iniziamo dal giveaway di YouTube che, come al solito, prevede anche i premi MAC. Allora, un primo premio questo mese è costituito da un Prolongwear Lip Cream, quindi un rossetto ed è il Love Long Distance ed è praticamente questo, nella confezione di metallo, un po' satinata ed è un color proprio nude, rosa antico, ma sulle labbra è molto molto chiaro e sheer. E a me piace, soprattutto con una bella matita sotto, fa un bel effetto steso con il pennellino. Quindi, un primo premio è questo, più ci metto un ombrettino Nars che è il colore Cosmic Girl ed è questo bellissimo ombretto perlato, cremoso, color giallo. Allora, io questo lo uso soprattutto per creare i punti luce, quindi sotto alle sopracciglia e all'interno dell'occhio. È davvero bello, luminoso. Questo è il primo premio di YouTube. Il secondo premio di YouTube comprende un gloss. Questo è un lip gloss ed è praticamente questo rosa, pieno pieno di glitter multicolor, ma soprattutto glitter azzurri. Poi ecco, vi metterò meglio la foto. Quindi questo. L'unica cosa è che io questo ce l'ho, il pennellino è strano perché è un po' duro, non lo so. Io preferisco prelevarlo con un pennellino per le labbra, però l'effetto mi piace, è dura. E poi c'è anche qui un altro ombretto Nars e questo è Grenadine ed è questo ombretto matte, color mattone, senza brillantini, senza niente. e anche questo è bello perché è un bel colore intenso. Quindi questi sono i premi del giveaway di YouTube e questa è la foto. Per quanto riguarda invece il giveaway di Facebook, anche qui ci sono due premi e quindi dovrete scegliere tra il premio 1 e il premio 2. Un primo premio comprende un eyeliner in glitter di Urban Decay e questo è il color Distortion ed è proprio un trasparente multicolor. Questo a me piace metterlo a parte sì, sopra magari una riga di eyeliner o di matita colorata per dare quindi un effetto più particolare ma mi piace metterlo anche qui da parte tra due righe di eyeliner proprio per una sopra e una sotto quindi per creare proprio un effetto particolare luminoso. e poi c'è un blush di NYX che è di questi cremosi a stick ed è un colore pesca. Io ce l'ho e si stende tanto tanto bene ed è il colore 08 Pink Poppy quindi questo è il primo premio di Facebook. Il secondo premio di Facebook è un eyeliner sempre in gel glitteroso di Urban Decay e questo è il Midnight Cowboy e questo crea una riga veramente di glitter dorati quindi questo è scrivente l'altro è trasparente con i glitter questo invece è scrivente e uno Smartton X rosa fluo io oggi questo l'ho messo e sui piedi e al sole ma anche comunque un po' in prelombra ma comunque all'aperto è davvero molto molto fluo e a me piace tanto tanto e comunque anche questo è bello glitteroso. E questo è il color City Pink quindi questi sono i premio quindi mi raccomando sia per YouTube che per Facebook dovete specificare se volete il premio 1 o il premio 2 e ditemi se avete tatuaggi dove e quali se non ce li avete se li vorreste e se sì cosa e dove quindi vi riferisco tutto nell'info box quindi non mi resta che augurare a tutti buona fortuna per questi giveaway e mi raccomando avete tempo fino al mezzogiorno del 31 agosto ciao ciao